Un weekend all'insegna del calcio e del mondo ultras, con Giuliano al centro del mondo della tifoseria di tutta Italia. Sì, è stato così già da ieri, che nella giornata di venerdì, dove abbiamo comunque ospitato già tifoserie come i fratelli di Gela e gli amici di Serra di Falco, che già sono stati con noi, hanno visitato la nostra città e hanno appunto assaggiato anche i prodotti tipici della nostra città. Dopo da due giorni all'insegna della cultura e della bellezza della città della Fiava, l'evento finale al campo di Lusciano. Oggi sarà la festa per il nostro grande Giustino, visto che ci regheremo tutti a Lusciano e ci sarà la partita tra le vecchie glorie e i calciatori attuali del Giuliano con la Juniores del Giuliano. E quindi invitiamo a tutti a venire a questa manifestazione per il nostro grande guerriero.